Siamo nel 2011, c'è la new entry, Carla Bis. E ora per gli amici, hollandesi, canadesi, americani, happy new year. Siamo già a nuovo anno in voi. Siamo arrivati alla strada del mare. Siamo arrivati alla strada del mare. Siamo arrivati alla strada del mare. No, come è in quella strada del mare. Ah, e le ha fatti passare in posto? Sì. 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 E infatti perciò si è fatti in posto in posto. Per paura che magari possano in qualche modo fare dei gruppi scherzi. Invece questo non si attacca, non si attacca. Sì. 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 Sì.